Un viaggio interminabile, una partita tosta, giocata bene con grande intensità per 120 minuti e una immeritata beffa finale ai calci di rigore. Il Piacenza di mister Arnaldo Franzini ha aperto così la stagione 2018-2019, quella del centenario della fondazione della società bianco-rossa. A Monopoli per l'incontro di Coppa Italia, l'allenatore ha riproposto l'identico 11 delle prime amichevoli, ma rotta il regista Romero Di Punta con Sestu e Corazza a sostegno. Gara equilibrata per larghi tratti, con il Piace che nel corso del primo tempo ha sfiorato il gol con Sestu, parso già in buona forma, che a metà frazione ha centrato una clamorosa traversa. Anche nella ripresa, Piacenza che tiene bene il campo, ma Pugliesi che nel finale hanno la chance per chiudere i giochi. In pieno recupero infatti, Fumagaglia è strepitoso nel respingere un calcio di rigore provocato da Pergreffi, anche espulso, e calciato da Sounas. I supplementari si aprono con il lampo di Silla, che supera anche il portiere e impiega così pochissimi minuti per lasciare subito il segno. Non sembrano esserci più speranze per il Monopoli, che però in pieno recupero del primo tempo supplementare conquista un altro calcio di rigore. Questa volta è Scoppa a fissare il punteggio sull'1-1. Nel secondo supplementare, Troiani rimedia il secondo cartellino giallo e lascia la squadra di Franzi in nove. Arrivano così i calci di rigore. Gli errori di Marotta e di Molfetta spalancano le porte del secondo turno al Monopoli, che domenica prossima se la vedrà con il Cittadella. Mister Franzini, che oggi al ritorno dopo l'estenuante viaggio in treno dalla Puglia ha fatto allenare chi ieri non ha giocato, è comunque molto soddisfatto. Diciamo che era una partita che arrivava in un periodo un po' particolare, in un posto particolare, quindi sicuramente non era tra le più agevoli arrivare. Quindi sono stati fatti dei salti mortali da parte di tutte, la società dei ragazzi e oltretutto si è andata anche a supplementare i rigori per non farsi mancare niente. Quindi questa è stata una partita vera, oserei dire, già a luglio, fin troppo vera, nel senso che comunque è stata molto tirata e combattuta. Sono soddisfatto per quello che abbiamo fatto vedere in questo periodo contro una squadra già rodata a casa loro. Non è facile giocare l'anno scorso, hanno fatto un ottimo campionato, sono arrivati davanti, praticamente la stessa squadra, quindi abbiamo fatto bene, forse meritavamo qualcosa in più, però ci sta adesso importante continuare a lavorare fino all'inizio del campionato che diventa veramente, è sempre stato, ma diventa veramente obiettivo, partire in un certo modo diventa l'obiettivo principale. Da mercoledì si ricomincia con gli allenamenti, domenica alle 17 amichevole a Lodi contro il Fanfulla.